Siamo con Pierluigi Pellegrini, direttore di SSM. Oggi si svela una novità che riguarda SSM, ma tutta la città di Udine cosa si tratta? Abbiamo contato molto su questa novità, oggi presentiamo la nuova applicazione in parche, che consentirà dallo smartphone di poter gestire la sosta raso, la sosta nei parcheggi in struttura, la ricarica elettrica dalle colonne di piazza Primo Maggio, la possibilità di conoscere i posti liberi nei parcheggi in struttura e anche la possibilità di ricaricare i propri borsellini o di fare tutte le transazioni direttamente dallo smartphone. Ma il plus su cui abbiamo puntato molto anche per la città di Udine è quello che tramite dei convenzionamenti con gli esercizi commerciali, con le attività economiche, sarà possibile per gli esercizi convenzionati riconoscere ai propri clienti delle scontistiche sui tic sosta, su strada e su parcheggi in struttura. Un'app che comunque immaginiamo sarà semplice da utilizzare un po' per tutti? Sì, la base di tutto il progetto è la semplicità e la comodità d'utilizzo dell'applicazione, quindi in pochi tapp, come si dice oggi, si potrà fare tutte le operazioni riferite ai servizi che noi roviamo.